Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo alla quarta lezione dove andremo a installare il Management Studio per poterci collegare al SQL Server Express che abbiamo installato nella precedente lezione. Ci siamo quasi, abbiamo quasi finito tutte le installazioni così poi entraremo nel vivo finalmente di questo bel software. Allora, avevamo scaricato il Management Studio, vado nella mia bella cartella di download, eccolo qua. Vi ricordo che se volete lo potete installare, potete evitare anche di scaricarlo e lo installate quando terminate l'installazione del SQL Server. Ad ogni modo, eccolo qua, tasto destro, esegui come amministratore, io faccio sempre così se devo installare un software di questo tipo, dove ovviamente la fonte è certa. Ok, lo avviamo, pesava 652 MB, eccolo qua, qua mi dice dove andare a installarlo. Allora, questo qua lo installo, facciamo che anche questo vado e lo installo, anzi no, lo lasciamo installato sul C, va bene, anche qua. Così lasciamo il disco D completamente ad uso del nostro SQL Server al netto dei log che vi ricordo che ce li avevo installati sul disco C. Perfetto, qui facciamo semplicemente installa. Le installazioni sono diventate veramente molto semplici perché, come vi accennavo, ad esempio il SQL avevo installato l'Express forse una decina d'anni fa e c'era praticamente quella per l'installazione personalizzata che vi mostravo prima. E di solito sull'installazione, in qualcuno di quei punti che comparivano c'era sempre un problema, che era un problema poi andare a risolvere, a capire come fare a completare l'installazione. Quindi vedendo un po' anche l'installazione che stiamo facendo adesso, devo dire che finalmente hanno semplificato di molto le cose e alla fine è un classico, da noi si dice, un classico struca-botton, quindi un premi il bottone e la macchina fa tutto per noi. Allora, vediamo che lo stato di avanzamento sta andando avanti. Qui sta installando Microsoft Visual Studio Tool for Application, quindi probabilmente ci sarà anche quella cosa là. E ricordo che il Management Studio è un tool che ci permette di collegarci al nostro database SQL, quindi sarà proprio lo strumento ipotizzato di avere l'Excel oppure il Power Query dove noi abbiamo le tabelline che stanno dietro, però noi abbiamo lo strumento che ci permette di interagire con queste cose qua. Ancora un po' di pazienza, speravo fosse più veloce anche perché ho un computer abbastanza veloce e anche dischi abbastanza veloce, però ci mette un pochino. Allora, vediamo anche la versione, la versione 18.7.1. Qui ogni tanto viene fuori che vi chiede di aggiornare la release, andate sempre senza nessun problema. Ok, tutti i componenti sono stati installati correttamente. Perfetto, facciamo un test. Allora andiamo giù dalla nostra amica Cortana e scriviamo Management, eccolo qua, Microsoft SQL Server Management Studio 18. Ok, quindi io premo qua. Ecco che si avvia il nostro Management Studio. Aspettiamo un attimino. Ecco qua. Allora, quando lo avvio lui mi fa già una proposta, vedete? Questo è il nostro tool che utilizzeremo durante il corso per vedere un po' tutto quanto. Lui mi dice, tipo di server, motore di database. Voglio collegarmi a un'analisi service. Vi ricordate all'inizio vi ho detto che c'erano anche altri componenti. Voglio collegarmi a un reporting service e altre cose. Ok, cambio quindi sistema. Noi in questo corso vedremo il motore di database. Quindi utilizzeremo sempre questa cosa qua. Poi lui dice, dove mi voglio collegare? Vedete, lui mi rileva, essendo che sì, quello è installato in questa macchina dove ho installato anche il Management Studio. Mi rileva in automatico che esiste questa istanza qua. Quindi lui trova questo nome qua. Ok, se noi andiamo nei servizi, se ricordate la precedente lezione, pannello di controllo. Ok, andiamo su strumenti e amministrazione. Andiamo su servizi. Andiamo su SQL. Ok. Adesso questo lo... Ok, non me lo lascia chiudere. Comunque, se noi andiamo qui, vediamo se me lo fa fare. Ok, vedete, c'è scritto desktop. Poi c'è il nome del mio computer, penso, e poi c'è il nome dell'istanza che vedevamo quando abbiamo terminato di installare il SQL. Questo è il mio riferimento, il mio puntamento. Infatti, se noi guardiamo il servizio, se ce la faccio, ok, connessione, vedete, alla fine è questa cosa qua. Ero convinto di vedere anche il nome del computer, ma non me lo vede. Probabilmente il nome del computer a questo punto me lo prende da qua. Eccolo qua. Desktop, ok, nome computer, Q-M-Q-P-O-N-I. Eccolo qua. Desktop, Q-M-Q-P-O-N-I. Quindi questo è il nome del mio computer, ok? E questo è SQL Server Express, che è il nome della mia istanza. Se avessi più istanze anche installate nello stesso computer, probabilmente sarebbe SQL Server Express 1, 2, 3, 4. E qui metto proprio l'istanza a cui io voglio accedere. L'esempio che facevamo prima. Voglio accedere all'istanza del commerciale, perché in quell'istanza tratto solo database e dati del commerciale, accedo all'istanza del commerciale. Voglio accedere su un'altra istanza, accedo ai dati dell'altra istanza. Con il management studio posso aprire anche più istanze senza problemi, però non comunicano tra loro. Per comunicare tra loro bisognerebbe fare una cosa che si chiama linked server all'interno del database, però questa cosa non andiamo a vederla. Per ora ci limitiamo a lavorare su una singola istanza. Poi cosa si fa? Un'autentificazione Windows. Quindi io l'ho installata e sono amministratore del mio SQL Server, perché è tutta anche una gestione delle grant. Quindi SQL Server, quando l'ho installato, mi ha messo come amministratore del sistema un utente come, qui c'è un utente che si chiama SA, che comunque è amministratore globale dell'istanza. Poi noi andremo a fare anche la creazione di utenze in modo da avere magari un utente che può fare solo dei select, leggere i dati, ma non li può modificare. Un utente che può accedere in un database, un utente che può accedere in un altro database, ma non nel primo database. Un utente che può vedere la singola tabella, ad esempio in un database abbiamo dieci tabelle, voi volete limitare l'utente a vedere una singola tabella. Potete anche fare una permission che permetta all'utente di vedere determinati campi all'interno di una tabella. Quindi si può arrivare a questo livello qua con la gestione delle permission all'interno del SQL Server. Potete decidere chi amministra cosa e chi vede cosa. È molto flessibile, molto dinamico sotto questo punto di vista e lo approfondiremo molto bene durante il corso, perché è un tema molto importante. Ad ogni modo, qui se facciamo opzioni non toccate a niente, è lasciato tutto com'è, quindi torniamo indietro. Qui facciamo l'autentificazione Windows, così utilizziamo il nostro utente di sistema per collegarci la prima volta. Poi, ripeto, vi farò vedere nelle prossime lezioni come inserire l'autentificazione, come inserire altre utenze, magari che sono in vostro dominio, in modo che possano accedere alla macchina. Piuttosto che vado a fare, vedete, autentificazione di SQL Server che crea un utente macchina, quindi sarà un utente che è dentro all'istanza SQL Server che mi permette di collegarmi. Quindi questo cosa significa? Io qui metto il nome dell'istanza, ok? E qui me la rilevo in automatico quando farete questa cosa qua. Dopodiché, io non ho un utente Windows abilitato ad accedere alla macchina, perché ipotesiamo sono un utente e non sono l'amministratore. E io, amministratore, ho deciso di non abilitare il tuo utente, ma ho deciso di darti un utente macchina da utilizzare, ok? Allora, voi dovrete inserire quell'utente macchina, il nome dell'utente macchina che l'amministratore ha creato per voi e la password che l'amministratore ha creato per voi. Questa è una scelta. Tendenzialmente si utilizza sempre l'abilitazione tramite credenziali Windows. Uno, perché è veloce, è più veloce, perché, mettete qua, lui le legge dal vostro sistema operativo e vi permette di accedere. Due, utilizzando la credenziale di Windows, vi permette di sapere sempre chi è che ha fatto le azioni. Ipotizziamo che avete 10 persone che possono modificare i dati nel vostro SQL Server. Qualcuno combina un pasticcio tramite i log, lo venite a scoprire, perché vedete l'utente che ha fatto il pasticcio. Potete vedere anche queste cose qua con il SQL Server, cose che con Microsoft Access ad esempio non potreste fare. Va bene, andando a noi facciamo connetti e qui adesso siamo entrati nel nostro database. Vedete, qui è il nome della nostra istanza che vedevamo fuori e qui abbiamo il database, la sicurezza per gestire gli accessi e altre cose. Ok, se facciamo sul più vediamo questa cosa qua. E qui ci sono già dei database. Queste cose qua le vedremo poi più avanti. Adesso nella prossima lezione andremo ad installare i driver, così poi entreremo di nuovo nel mezzo del mio studio e andremo a fondo, inizieremo a creare il primo database e cominceremo a capire le prime cose, inizieremo a fare la vera pratica in modo da finalmente iniziare ad utilizzare lo strumento. Bene, con questa lezione è tutto. Ho quasi finito di annoiarvi con le lezioni di teoria di installazione e di download. Come sempre, se la lezione è stata di vostro gradimento, lasciate un like. Se non siete iscritti, iscrivetevi premendo il bottoncino rosso che sta qua sotto. E ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao! Ciao!